Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, buongiorno al professor Fabio Fortuna, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Rettore dell'Unicusano Economista, allora tanta parte della nostra segna stampa, professore, inevitabilmente si occuperà del settore primario, secondario e terziario dell'economia, come da manuale delle scuole medie e quindi partiamo dal primario, dall'agricoltura e dalla protesta dei trattori, fronti aperti tra Roma e Sanremo, questo è il giorno quotidiano nazionale per intenderci, quindi anche sul Carlino e sulla Nazione troverete questo titolo d'apertura, riscatto agricola, nulla il corteo nella capitale, anche il sitino in San Giovanni, ci saranno solo quattro mezzi che attraverseranno le strade più note di Roma, vogliamo vedere Meloni e Lollobrigida, poi a proposito del settore secondario, Mirafiori che perde Maserati dopo 13 anni sciopera ancora, però ci arriviamo un pezzo alla volta, dal messaggero, il titolo d'apertura è in trattore in centro a Roma, salta il sitino degli agricoltori in San Giovanni, autorizzato un corteo, le frange più dure in pressing su Sanremo, il messaggio di questa sera dal palco che leggerà Amadeus non basta perché dicono gli imprenditori agricoli a noi era stato promesso il palco dell'Ariston, così aveva detto il conduttore, direttore artistico Amadeus, marcia su Sanremo, al festival è un caso l'esibizione di Travolta, Amadeus leggerà una nota, gli agricoltori, noi sul palco invadiamo la città, prima di andare dal professore e dal rettore volevo far vedere anche la vignetta di Giannelli che è molto divertente, su da brava, dice Amadeus a Dercolina che è la mucca simbolo della protesta e che già ha fatto la sua passeggiata sul green carpet di Sanremo, leggi il comunicato, il governo prova a mettere in campo delle risposte, magari ripristinando quell'essenzione IRPEF seppur in modo parziale, questo crea tensioni ancora dal Corriere della Sera tra Lega e Fratelli d'Italia, la Lega vorrebbe il ripristino parziale. Professore quanto è centrale a livello nazionale ed europeo dare delle risposte al settore primario, all'agricoltura italiana ed europea? È fondamentale, soprattutto per noi Italia che siamo un paese dove l'agricoltura è stata sempre protagonista, un paese di tradizioni agricole, contadine, io avevo i nonni sia paterni che materni che erano contadini, ma tanti di noi hanno parenti nel passato che esercitavano questa professione. Poi c'è stato un po' un allontanamento, bisogna rinanciare l'agricoltura. Certo alcuni paesi europei sono maggiormente interessati e mi riferisco a Italia, Francia e Germania, noi siamo scesi al terzo posto come produzione agricola, la Germania ci ha sorpassato, quindi dobbiamo recuperare terreno, dobbiamo rilanciare l'agricoltura perché l'agricoltura insieme al turismo è sicuramente un fattore fondamentale per la crescita del paese e in questa strada abbiamo degli alleati che sono interessati all'agricoltura, alleati tra virgolette in campo europeo, ma dobbiamo distinguere i due piani, uno è quello europeo dove ci sono stati degli interventi, mi riferisco alla von der Leyen, vuoi per motivi legati alla vicinanza dell'elezione europea, insomma l'importante è che ci sia stato uno slittamento e poi c'è un piano italiano che è anche peculiare perché in Italia oltre al problema della regolamentazione europea, della sostenibilità fondamentale ma da rendere compatibile con il resto, ci sono problemi dovuti al fatto che ad esempio l'inflazione ha colpito almeno per un anno in modo più grave, quindi i costi dei fertilizzanti, i costi dell'energia, gli agricoltori hanno dovuto affrontare tante spese aggiuntive e poi il problema fondamentale è la differenza tra ciò che ricavano dalla vendita della materia prima, l'esempio del grano è classico 0,25 e poi diventa nei vari passaggi produttivi 3 euro al chilo il pane, quindi questi sono settori dove il governo in qualche modo deve aiutare gli agricoltori, la manifestazione è legittima. L'altro tema, perché cosa dicono gli agricoltori e qui usando lo stesso linguaggio italiani, tedeschi, francesi, del Belgio, della Grecia, della Spagna, dicono guardate noi non siamo contro le politiche che contrastano il cambiamento climatico, serve gradualità e c'è Serena Milano, Slow Food, che come dire non si può tacciare ed essere una scettica o critica del cambiamento climatico, anzi, dice che un'altra agricoltura è possibile, sottolinea un dato che è una delle proteste del mondo dell'agricoltura, noi facciamo tanto, abbiamo già limitato al massimo la chimica nei campi, rispettiamo standard di lavoro, noi abbiamo la piaga del caporalato e lo sappiamo, ma ha alti diritti, pare giuste per i lavoratori, non possiamo confrontarci con mercati produttori che abusano della chimica, che abusano di fertilizzanti, che abusano dei diritti dei lavoratori e quindi dice Serena Milano, con questo un'altra agricoltura è possibile, ma dice anche il professor Leonardo Becchetti su Avvenire, serve stesso trattamento, stessi diritti perché altrimenti c'è una sproporzione forte e poi c'è il tema che sottolinea il professore dell'oiato tra quello che prendono gli agricoltori per i loro prodotti e il costo che applica la grande distribuzione su quei prodotti ed è un altro grande tema. Ovviamente è argomento di dibattito politico e di duello soprattutto dentro la maggioranza, più che tra maggioranza e opposizione, scontro Fratelli d'Italia Lega sull'IRPEF, Salvini incontra i ribelli, quelli in Abruzzo, quelli che speravano di incontrare Giorgia Meloni l'altro giorno e che non hanno invece incontrato la Premier, la Lega che con Molinari ha detto togliere l'esenzione a IRPEF è stato un errore del governo, l'ha tolta 40 giorni fa, Foti, Fratelli d'Italia che ha risposto sostanzialmente dove eravate, non ricordo voci critiche rispetto a questo provvedimento. Che ovviamente fosse reintrodotto in modo parziale o totale, professore lo diciamo, non svolta, non cambia tutto. Direi proprio di no, oltretutto si tratta di cifre che considerate nel bilancio dello Stato, sì, hanno un minimo di significato, ma non si tratta di 20-30 miliardi, quindi credo che ci sia più uno scontro politico come lei ha sottolineato, anche interno alla maggioranza, con un botta risposta che lei ha ricordato che è abbastanza significativo. Non si risolve col discorso, è un aiuto, ma non si risolve col discorso dell'eliminazione della stazione dei redditi agrari. Certamente se si deve scegliere, se spendere 100 milioni in più o 100 milioni in meno, ha anche senso dire, beh, chi ha però imprese agricole di maggiori dimensioni, ha minor bisogno, non soffrirà di questa agevolazione. Quindi io credo che il dibattito sia aperto, a questo punto ci sarà un intervento, a mio giudizio, sui redditi agrari e vedremo di che tipo sarà. Sì, abbiamo già sentito anche ieri Giancarlo Giorgetti anticipare qualcosa, lui che deve anche tener conto dell'aspetto sostenibilità dei conti pubblici, perché è vero che non sono numeri che fanno saltare un bilancio, però bisogna sempre tanto esce e tanto entra e quindi vanno trovati o 100 milioni o 200 milioni. Attorno a questo ovviamente finisce nella polemica e nel contrasto politico anche il Ministro dell'Agricoltura, Repubblica titola, come vedete, bufera su Lollobrigida, titolo ancora più tosto, duro, lo fa Matteo Renzi che col suo riformista titola il cognato desaparecido e col suo partito si appresta a presentare che a Italia Viva una mozione di sfiducia individuale. Il diretto interessato dice al giornale stiamo con gli agricoltori, in questo colloquio fatto a Berlino, chi sventola il tricolore non è un pericolo, dalla loro parte in 9 punti su 10, ma esentare dalle tasse gli imprenditori ricchissimi non è equo, ecco allora che il provvedimento che verrà inserito nel mille progress è un'esenzione solo per i redditi bassi, si ragiona attorno alla cifra 10 mila euro. Abbiamo detto del settore primario, professore, secondario, quindi, industria, torno sulla stampa, questa è l'apertura, Italia, Germania, imprese fragili, l'allarme della BCE, il 10% rischia di fallire, in difficoltà edilizia e agricoltura, a pesare sono l'aumento dei tassi, no? Pensavo, professore, chissà se si sono domandati come mai a Francoforte sono aumentati questi tassi, che pesano, come se avessimo deciso lei ed io. No, infatti, certamente l'aumento dei tassi è stato un problema, ora però c'è da farli tornare indietro, nel senso che le banche centrali e soprattutto BCE dovrà iniziare presto la diminuzione dei tassi e rendere più vivibile il contesto operativo per le imprese, è indubbio che le imprese hanno difficoltà legate agli oneri finanziari che sono aumentati notevolmente ed è altrettanto evidente che un allentamento della politica destitiva delle banche centrali, in particolare la BCE, renderà possibile un graduale recupero di competitività delle imprese. Il problema c'è, ma io credo che sia esasperato da questi elementi, ma c'è anche sempre stato, perché poi anche la dimensione aziendale e le capacità di assorbimento delle situazioni difficili da parte delle aziende è una condizione determinante che però esiste e viene accentuata da fattori congiunturali. Una su dieci a rischio crack, dice Banca Centrale Europea, il pezzo della stampa su questo, Italia e Germania le peggiori, Meloni rilancia sui dati OX e il reddito delle famiglie cresce dell'1,4%. Ecco, io volevo aggiungere una riflessione, la firma Innocenzo Cipolletta, la firma per, eccolo qua, il domani, PIL e Manodopera, perché cresce l'occupazione ma non la produttività? Professore, io faccio solo di questo. Aggiungo il punto interrogativo, perché cresce l'occupazione ma non la produttività? Ma cresce l'occupazione? Sì, l'occupazione sta migliorando, c'è anche un recupero del tempo indeterminato sul tempo determinato, però poi i dati vanno analizzati in modo completo e allora ci si accorge che ad esempio i lavoratori a tempo indeterminato vengono inclusi anche lavoratori che non lavorano a pieno ritmo e se non lavori a pieno ritmo ovviamente la produttività ne risente. Sembra un paradosso ma si può verificare. Allora su questo tema, anzi su questo argomento settore secondario, industria, manifesto, Mirafiori l'abbiamo già incrociata nel nostro racconto, Stellantis, Mirafiori capofila, lo sciopero non è più un tabù, proteste anche in Campania, il governo non ha un piano, oggi vertice unitario a Torino, terza protesta spontanea in due giorni, altri mille operai all'assemblea della FIOM, la rabbia dei lavoratori di Stellantis monta ogni giorno in più e non è indirizzata solo contro l'azienda ma coinvolge direttamente il governo Meloni e l'idea di uno storico sciopero unitario nel gruppo non è più un tabù. La vicenda Stellantis, professore, è la fotografia di cosa secondo lei? La fotografia di una perdita di competitività delle grandi imprese italiane che avendo una scarsa forza e capacità competitiva hanno dovuto cedere alla tentazione di ingressi nel capitale di società estere. Quindi la spiegazione va trovata qui ma è anche frutto del libero mercato, indubbiamente noi eravamo abituati a essere i leader nel settore delle auto, non lo siamo più, la famosa Fiat si è piano piano disgregata per effetto di una serie di operazioni fino ad arrivare nel 2021 a Stellantis con sede guarda caso nei Paesi Bassi ma soprattutto con stabilimenti in 28 Paesi al mondo e in Italia sì ce ne sono cinque Mirafiori e altri quattro a Tess e via dicendo. Però sicuramente l'influenza italiana è diminuita come dimostra la composizione del capitale, si è ventilato un ingresso nel capitale da parte dello Stato italiano, vedremo, è un fenomeno opposto rispetto a quello delle privatizzazioni ma a volte in campo economico ci sono anche cose che sembrano controsenso. In Francia lo Stato è entrato nel capitale dei produttori delle automobili, lo ricordiamo. Torno sulle prime pagine per il terziario, una volta il commercio è tutto quello che non è primario e secondario è tutto quello che è tanta roba ovviamente, commercio grido d'allarme, questa è l'apertura del mattino, chiuso un negozio su 5, dal 12 scomparse 111.000 attività, aprono solo gli stranieri, trattori niente piazza, l'abbiamo parlato al Colosseo con quattro mezzi. Questo è il mattino, queste sono le due pagine sul tema del messaggero, la crisi del commercio, spariti 111.000 negozi, aprono solo gli stranieri, meno salumieri e benzinari, esistono farmacie e high tech. Non regge più nemmeno il terziario, professore? Il terziario ha grandi difficoltà perché noi negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere piccole attività che cessano di esistere e questo perché diventano insostenibili i costi per mantenere in vita un'azienda di piccole dimensioni che piano piano vede assottigliarsi le possibilità di sopravvivenza. È una costante che abbiamo vissuto almeno negli ultimi 20-30 anni. Certo in Italia il fenomeno è più preoccupante perché l'Italia ha un sistema economico basato su più del 90% di piccole e medie imprese, la crescita dimensionale delle imprese è comunque necessaria, in Italia non c'è stata molto, sono poche le aziende molto grandi in Italia, c'è stata solo in qualche settore forse, bisogna contemperare questi aspetti. Il made in in Italia va difeso, va difesa la piccola impresa e nel commercio certamente la grande distribuzione realizza economie che le piccole imprese non possono realizzare e sta avendo il sopravvento. È un processo difficilmente reversibile. Sto sul messaggero e il professore lo sa che lì dovevo finire, nel senso che è inevitabile con lei affrontare questo tema ed è Bandecchi sui social, mi sono rimesso, Terni, Rebus, Sindaco, questo è il titolo di prima pagina, poi dalle pagine interne Bandecchi, Shock, mi dimetto da Sindaco, ma dalla prefettura dicono guardate l'atto ancora non c'è. Dicevo perché col professore è inevitabile affrontare questo tema? Perché tra le altre cose nella vita imprenditoriale di Stefano Bandecchi c'è la fondazione dell'Università Unicusano di cui il professore è rettore, ovviamente non è che siamo qui a far finta di nulla. L'annuncio è di quelli Shock, soprattutto perché almeno fuori dalla cerchia dei fedelissimi è del tutto inaspettata. Il sindaco di Terni Bandecchi ha dato le dimissioni dal suo incarico, mi dimetto, i motivi sono di carattere politico, non esco comunque dalla politica, mi candido alle europee, resto segretario dell'alternativa popolare, ma non farò più il sindaco da qui a 20 giorni. Il sindaco della città di Terni era in carica da 8 mesi, 20 giorni di tempo, dal momento in cui vengono formalizzate in prefettura le dimissioni, formalizzazione, atto che ancora non c'è, dicono proprio dalla prefettura di Terni, come sottolinea il messaggero, 20 giorni poi eventualmente per ritirarle. Professore, lei è nella cerchia dei fedelissimi? Direi di no, nel senso che io non mi interesso di politica, ma di università, didattica e ricerca. Certamente conosco l'uomo, un uomo vulcanico, poliedrico, spesso imprevedibile. Devo dire che questa è un'estremizzazione della sua imprevedibilità, perché io non me l'aspettavo, ma credo che nessuno se l'aspettasse e forse il motivo più banale, senza andare a cercarne tanti, potrebbe essere il fatto di volersi dedicare maggiormente alla politica. È un'ipotesi, come ce ne possono essere tante altre, ma certo, colpo di teatro, leggevo nel titolo che lei ha commentato, fulmina, c'è il sereno, è un'altra espressione che calza il pennello. Sì, dicevano spesso sopra le righe, anche molto, molto, molto sopra le righe, anche toccando cose che non sono propriamente accettabili, spudia gli ultra, fratisi sessiste, tutti gli eccessi dell'ex parato, ma non è che è uno scherzo, perché ieri era giovedì grasso, professore, ma perché anche questo rimbalza nei quotidiani. Ma credo che l'estrosità del persomaggio non porti poi addirittura a fare una considerazione così importante, perché di mettersi da sindaco, indubbiamente, è un atto importante. Professore, grazie per essere stato con noi quest'oggi. Lo vede Sanremo, sì? Sanremo lo vedo sempre, assolutamente, mi piace molto e devo dire uno spettacolo molto diversificato, variegato, di grande attrattività.